Perché Giorgio Manetti ride alle domande di Anna? Giorgio Manetti sembra avere verso gran parte della popolarità e anche oggi in studio mantiene un comportamento strappotente. Con te ho fatto sesso e mi pare ti sia anche piaciuto, il nostro gabbiano ancora una volta dimostra di essere innamorato di sé, peggio di Narciso e rivolge queste parole alla dama torinese, che lo accusa d'avere mortificato la loro storia d'amore a mera relazione sessuale. Naturalmente Giorgio non può permettere che Gemma sia irritata con lui, ricordiamo che la signora Galgani è comunque lo specchietto per le allodole, che il bel Giorgio ha usato per diventare il protagonista di Uomini e Donne e Veree, nella puntata di oggi ha ribadito, che la torinese è estremamente sexy per radonire. Sicuramente il termine mumia, che Anna ha usato cattando con Giorgio lascia pensare che tra i due il rapporto sia molto intimo ed è strano, che Giorgio, così gentilmente permetta a un'amica d'offendere una donna importante per lui. Pu, essere di dubbio gusto che Gianni Sperti abbia controllato il telefonino di Anna ma, considerato che all'interno di una trasmissione televisiva sono molte le agevolazioni, che ottengono i protagonisti tra cui i soggiorni a Roma, i viaggi e le relative serate retribuite, che ovviamente ne derivano, la correttezza è d'obbligo. Giorgio in difficoltà sente il trono scricchiolare Anna stranamente, dopo aver denigrato le persone, che ha conosciuto in trasmissione, decide di restarci, il potere delle telecamere alleggia su tutto, e chiede per l'ennesima volta al gabbiano. Tu pensi che io sia innamorata di te e in caso tu avessi fatto delle avances nei miei confronti pensi che io ci sarei stata? Anna vuole una risposta, ma Giorgio come sua abitudine tentenna deridendo la bella dama bionda e risponde sghignazzando quando la stessa conduttrice chiede a Giorgio se per caso lui fosse innamorato di lei. Valentina interviene dicendo che sono stati usati due misure diverse tra Anna e Giorgio e si domanda perché sia stata lapidata solo Anna e non il cavaliere. Gli ascolti si alzano nelle puntate di Uomini e Donne over grazie alla presenza di Gemma Galgani, che in bene o in male ha assunto un ruolo determinante all'interno della trasmissione e ovviamente di riflesso anche per Giorgio. A nessuno contiene che Giorgio Manetti abbandoni e soprattutto lui sarebbe il primo a non prarne giovamento perché, come sa perfettamente dall'altro della sua esperienza, in poche settimane sarebbe sostituito da un altro cavaliere carismatico e forse anche più simpatico di lui. Quindi aspettiamoci che questa telenovela nostrana continui ancora a lungo, finirà quando il pubblico si annuirà di vedere svolazzare il gardiano. Grazie.